Nessun dorme Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale così da non perdervi nessun video. Buona visione. Carissimi bentornati, quest'oggi vi porto con me in visita nello stabilimento di Delta che ha riaperto i battenti a pieno regime solo da alcuni mesi ed ha ricominciato da dove aveva lasciato, quindi venite insieme a me per capire un po' come funziona questo mondo. Sono stato in Delta con l'amico Fabrizio del canale di Leopoldo Parada che mi ha supportato e accompagnato in questa bellissima esperienza. Quindi direi di lasciarvi alle immagini che vedrete di seguito. Ho dovuto purtroppo inserire il commento al video successivamente perché i mezzi a disposizione c'erano ma il rumore di fondo era davvero tanto. Quindi saranno alternate le immagini registrate con i commenti originali, diciamo così, e quelli fatti successivamente. Ecco quello che voglio mostrarvi, iniziando dagli uffici di Delta, dagli uffici amministrativi di Delta, da cui sono uscite le idee più assurde, le idee più innovative di Delta stessa. Delta infatti nasce nel 1982 portando nel panorama stilografico tante innovazioni, dalla prima penna, ad esempio fatta in fibra di carbonio e titanio, all'ormai iconica Dolce Vita, con il suo tipico accostamento di colori, arancio e nero, che ormai l'ha resa riconoscibile forse più di tante altre penne famigerate, come ad esempio la Hemingway. Comunque, durante il giro in fabbrica sono state tante le occasioni di far domande, tante le cose viste, dalle vecchie glorie, quindi produzioni del passato, a quelle che contraddistinguono il nuovo. Il nuovo avvio con marchi come Maiora, Nettuno 1911 e Nino Marino Signator, a cui oggi si aggiunge appunto Delta, che fa così diventare Maiora un vero e proprio gruppo, che comprende ben quattro marchi distinti e separati, con linee di produzione e obiettivi ben definiti. Una delle prime domande fatte ai patron di Delta è quella della possibilità di customizzazione da parte dei clienti, cosa a cui la risposta è stata positiva, il fatto che si possa già fare fin da subito, sia da parte dei clienti che da parte dei vari distributori. La possibilità di richiedere riparazioni di vecchie penne Delta, che è possibile fare previo preventivo naturalmente, e scrivendo all'email che vi lascerò anche nei dettagli, ovvero n.marinochiocciolamaiorapen.com Entrare in questo stabilimento è quasi come respirare la storia di Delta a tutti gli effetti, quindi entrare in uno stabilimento da cui fanno capo diverse produzioni e da cui sono usciti splendori di penne, come noi appassionati abbiamo imparato a conoscere, è davvero, davvero un'esperienza unica. Abbiamo osservato alcune baccheche con delle vecchie produzioni, vecchie glorie, e anche, come potete osservare, dei vecchi riconoscimenti. Tra le altre domande fatte c'è quella riguardante il famoso pennino Fusion, se tornerà o meno. La risposta è no. È stata una brillante operazione di innovazione tecnologica, ma appartiene al passato di Delta. I nuovi modelli dei quattro brand hanno dei pennini Giovo a cui non sono previste modifiche strutturali, se non in alcuni casi. Una piccola anticipazione che ci viene fatta riguarda le customizzazioni sui pennini. Dalla personalizzazione con loghi, eccetera, alle modifiche strutturali, ad esempio di flessibilità e morbidezza. Il tutto è al momento in una fase di studio, quindi da qui a breve potremo aspettarci anche qualche bella sorpresa da parte del gruppo Maiora. Successivamente siamo passati alla parte produttiva dello stabilimento. Qui ci sono stati mostrati tanti e tanti semi lavorati rimasti fermi per diversi anni dopo la chiusura e che aspettano solo di essere riassemblati e portati sul mercato per la gioia di noi appassionati e collezionisti. Un vero patrimonio, come lo definisce lo stesso patron di Delta, che comprende, oltre ai semi lavorati, anche tantissime resine pregiate, splendide, tutte rigorosamente di produzione italiana. Oltre, naturalmente, alle celluloidi, che sono rimaste ferme per oltre cinque anni, celluloidi di una bellezza davvero unica, usate in passato per fare delle meraviglie, delle penne come la Pompei, come la Delta Caruso, oppure come alcune edizioni celebrative, tipo le Anniversary, o ancora l'edizione Fantasia Vintage. Non c'è che dire, un vero e proprio patrimonio da poter sfruttare appieno. Grazie. 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 Abbiamo potuto ammirare tantissime resine, tutte di produzione italiana, tantissimi materiali pregiati, come i legni utilizzati ad esempio per l'Amerigo Vespucci. Qui ad esempio vedete alcuni semi lavorati della celebrativa per Alfa Romeo. Ho ancora materiali come il carbonio, utilizzato per alcune creazioni tipo la Momo Design oppure la prima penna di Delta fatta proprio in titanio e carbonio. Oltre alle resine, tutte splendide, abbiamo visto le barre di ebanite utilizzate sia per penne che per le condotte di alimentazione dei pennini. Alcuni acetati di cellulosa che nulla hanno da invidiare alle più blasonate celluloidi. Questo è un mercato chiaro, quindi fanno l'astro e gli spessori. Se fanno un sanghetto, è molto pieno. Il mercato è quello che è un mercato indice. Ma non c'è qualche contesto? Anche cilievo. Non c'è. Il concetto è che della vecchia c'è un'altra resina. Sempre. Questa. 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 Quella è l'intrazione. La sicilia. L'ultimo barri di fondo è stata una città. La sicilia. Ma questo isterno, è qualcosa. È un mercato. Enno a mano. Il postaglio è in 30 anni. Ma una volta vi è andato poco si appaggione e due mesi ammagazzini. Non ci sono. Mi ho dato la proiezione apprezzo di limiti in Cina, in Cina. la fabbrica italiana che forse vengono anche qui italiana oppure per fare la teglia in metallo queste ad esempio sono alcune barre di acetato di cellulosa che serviranno per creare alcune collezioni speciali per clienti particolari oltre a queste abbiamo visto una infinità di resine alcune davvero davvero splendide colori particolarissimi che aspettano soltanto di essere prodotte quindi tagliate lucidate e messe a disposizione di noi appassionati ne approfitto mentre scorrono le immagini per ringraziare ancora una volta il gruppo a mai ora per averci ospitato nel loro stabilimento ringrazio l'amico fabbrizio del canale di leopoldo parada per essere stato con me per avermi supportato per avermi accompagnato in questo splendido viaggio in delta e direi di continuare con le immagini verso la fase produttiva vera e propria e dove si lavorano tutte queste resine perché tutte quelle che vedete dovranno essere lavorate in qualche modo quindi tagliate lucidate messe a misura e prenderanno la forma delle nostre amate penne questa era una semplicemente per linea economica giusto che appuccia pochi pezzi altri pezzi della dolce vita tutti semilavorati grazie cominciamo 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 Grazie a tutti. E' pieno di fusti e cappucci dolcevite. E' ben interromo imperiale. La serie di torni paralleli manuali servono per fare i prototipi. Soprattutto i prototipi. Oppure operazioni di ripresa. Operazioni di ripresa, come in questo caso, questo è argento massiccio, ovvero tutte le lavorazioni che si fanno sulle fascette di fusione a cera forza in argento massiccio. Vengono rettificate, testate, lavorate a mano al tornio manuale. Quindi sui paralleli manuali si fanno i prototipi. In questa fase potete osservare come su questo tornio inizia la fase di prototipazione. Si parte dalla prima finitura per far raggiungere alla resina il diametro che si desidera. Questo naturalmente in base alla grandezza che si vuole far avere alla penna, al corpo della penna. In questo caso, dicevo, si sta iniziando a lavorare una barra di resina molto particolare da poter poi mostrare infinita e completa al cliente che ne ha richiesto la produzione. Ovviamente dopo averla tagliata, levigata, lucidata e quindi dopo aver seguito tutto il ciclo produttivo della fase di prototipazione della penna. Poi si fanno le carteggiature. Con l'acqua si prende il pezzo tornito, si monta sulla tima, si carteggia con carta abrasiva a più grane, da una più grossa fino a una molto sottile, per poi andare ad essere lucidata a spazzolatrici. Questa è quella di prima, però sempre per i prototipi? Questa è per la produzione in serie. Prima ancora della lucidatura vengono tutte passate di carta abrasiva. Oltre a quelle appena viste ci sono poi ovviamente le macchine a controllo numerico, per la produzione in serie, che nello stato attuale permette una produzione di 200 pezzi finiti al giorno. No. 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 adesso non ci vanno parta per un cliente speciale finestre tornite per l'istalsione per il contorno del livello rinchiostro capucci, serpature progetti è ancora magazzino un'altra domanda che è stata fatta riguarda proprio questi nuovi modelli di maiora ovvero la serie golden age la risposta che abbiamo avuto è che si tratta di un modello ottenuto estremizzando il ciclo di produzione facendo lavorare il mandrino del tornio a velocità più elevate del normale rischiando anche di danneggiare il macchinario ma ciò ha dato vita a questa forma particolare di ogiva mai vista fino ad ora è ribattezzata come ultra ogiva questo è il momento la linea condizionata stavo lavorando sulle nuove ogive esattamente ok io ho messo per lo stampaggio dell'equip presa meccanica laser per le incisioni l'immagine abbiamo avuto un modello una fascetta in metallo per una collezione speciale Il primo prototipo va a essere prodotto per la fusione a cera persa, con questo tu puoi fare la stampa in gomma per fare la fusione a cera persa, ora questo puoi diventare d'argento puoi diventare d'oro, ma tu puoi fare questo primo pezzo che parto da lì, quello dall'inchitta da stampante 3D, con il 3D facciamo il master, il master è il primo pezzo che ti serve per fare lo stampo in gomma ed operare la fusione a cera persa. In questo caso stiamo lavorando con l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia stiamo lavorando con la tradizione del comune. Stiamo lavorando con l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia. Stiamo lavorando con l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia per l'inveglia. In questa fase possiamo osservare una parte di lucidatura che viene effettuata sui singoli pezzi. vediamo l'addetto all'opera che sta lucidando una parte di impugnatura, quindi di sezione di scrittura di una delle ultime produzioni che sono sulla linea produttiva al momento. e qui vediamo tutte tutte le parti che la compongono lucidate a specchio. ecco il problema di lucidato. Un'attrezione della spazzolamica. Il nostro, dal quale viene franciata La tip, per cui la può essere stampata Un bronzo, vero? Un bronzo particolare, speciale di pericurio E la nostra, Galvanica Reparto Galvanica Queste sono le nuove produzioni della nuova TV Sabbiatrice automatica Poggi i pezzi sulla tavola che è ruota Gli ugelli sparano sabbia sottilissima Ottieni la superficie matte sotto squadro Vai a spazzolare Quello che sotto squadro rimane opaco Quello che a rilievo si lucida E poi ha il contrasto matte lucido Fatto confezione Dove ogni penna viene controllata Accuratamente con lente di ingrandimento E quant'altro Controllo qualità Però, prima di andare in astuccia Vengono ripassate Con questa spazzola Per rilucidarle un'altra volta Perché sono state toccate al montaggio Quindi, passaggio Rilucidatura prima di andare in astuccia Prodotto semilavorato quasi finito Tutto dolce vita Questo è l'attuale? No Sono finito Ancora quella precedente Perché c'è Sono finito Lo scalino Prese dal Dall'archivio storico Tanto Tantissimo Quando passiamo al reparto assemblaggio Vediamo anche come vengono Minuziosamente controllati I pennini Affinché non abbiano problemi Quindi vengono sistemati Laddove c'è necessità Tutta la nuova DTB 2.0 In fase di ultimazione Quanto ci vuole montare una penna? Dipende dal tipo Di penna Penna più complicata Meno complicata Mediamente riesce a finirne Un centinaio al giorno L'attuale produzione Su che numeri Si attesta? Siamo intorno ai 4.000 pezzi mensili Che verranno finiti Per essere poi rimessi sul mercato Abbiamo affrontato diversi argomenti Con i responsabili di Maiora Tra cui alcune delle nuove produzioni Che ci saranno Di tutti i marchi Da dove riprenderà Delta Ovvero da tutti quei semi lavorati Che abbiamo visto prima Perché è tanto il materiale già presente E lavorato Che sarebbe un vero peccato sprecare Tanti collezionisti Tanti collezionisti Attendono delle vecchie produzioni Penne che hanno fatto la storia Di questo marchio E che aspettano Di rivedere Nei vari negozi Con incluse Magari Nuovi modelli Che potrebbero diventare Delle nuove icone Adesso vi lascio Su una serie di immagini Che mostrano una parte Dell'attuale catalogo Del gruppo Maiora Sono tanti i modelli In fase di produzione Tutte realizzate con lo stile Che contraddistingue Questo gruppo E chi lo compone E tutte in grado Di incontrare i gusti Di ognuno di noi Carissimi Spero che abbiate apprezzato Questa breve visita Alla scoperta Di una realtà italiana Come Delta Che questa panoramica Su come viene realizzata Una penna Quindi il ciclo produttivo Tutto ciò che c'è dietro Sia stato utile anche a voi Per apprezzare meglio Gli oggetti Che ogni giorno Ci troviamo a utilizzare E chissà Che non ci siano altre occasioni Magari per visitare Altri stabilimenti Prima o poi Quindi non mi resta Che salutarvi Ricordarvi di lasciare Un mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale E vi auguro Una buona giornata A presto Che nessuno Che nessuno E vi auguro Che nessuno Grazie a tutti.